Pubblicata dall'azienda consortile per i servizi sociali agro solidale, la graduatoria definitiva per il riconoscimento del voucher prima infanzia. Il voucher consiste in un riconoscimento economico utilizzabile per la riduzione delle rette per la prima infanzia, nidi e micronidi accreditati, determinato in relazione all'ISEE della famiglia richiedente e destinato a nuclei familiari di minori residenti nei quattro comuni dell'ambito territoriale S013, Pagani, San Marsano, Solsarno, San Valentino, Torio e Sarno, con figli da 3 a 36 mesi, frequentanti per l'anno educativo 2022-2023 in una delle strutture accreditate dell'ambito S013, asilo nido o micronido. L'ambito riconoscerà alla famiglia un voucher mensile da settembre 2022 a luglio 2023 che coprirà parzialmente il costo mensile della retta dichiarata dai soggetti accreditati, fino ad un massimo di 500 euro mensili per la frequenza a tempo pieno e fino ad un massimo di 300 euro per la frequenza part-time, 5 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, A seguito del corrispettivo riconosciuto per ogni singolo utente attraverso il voucher, la retta mensile della famiglia interessata sarà ridotta di pari importo. La quota che rimarrà a carico della famiglia sarà versata direttamente al gestore dell'unità dell'offerta accreditata, unitamente alla consegna del voucher. L'importo del voucher è quantificato in rapporto all'ISEE minorenni, riferito al minore, per cui è richiesta la prestazione secondo quattro fasce indicate nella domanda di richiesta del beneficio. I cittadini residenti provenienti da paesi extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.